Siamo nella profumeria Campomazio in compagnia del presidente del Parco Nazionale d'Abruzzo, Antonio Carrara. L'occasione è il lancio a Roma di un profumo che porta il nome di Parco 1923, proprio perché è dedicato al Parco Nazionale d'Abruzzo d'Abruzzo in Molise. E come nasce questa idea? L'idea di Paride Vitale, che è l'imprenditore che ha realizzato il profumo e la linea di prodotti che sta nascendo intorno. Paride è nato e vissuto dalla sua giovinezza a Pesca e Seroli, anche se oggi vive fuori. Da questa sua idea l'ha proposta al Parco, il Parco ha deciso di sostenerla in qualche modo, di associare il nome del parco a questo profumo, che è un profumo realizzato volendo ricreare gli odori di una passeggiata nel Parco d'Abruzzo, quindi con le piante specifiche che si trovano nel parco. E noi l'abbiamo sostenuta, per chi ci pare, in idea magnifica, che riesce a portare i profumi e il nome del parco in territori più ambi, e poi anche per una regione specifica, che chi acquisterà questo profumo, un euro di ogni profumo acquistato finirà al parco per la protezione delle piante specifiche del parco. Il 1923 perché? Il 1923 è l'anno in cui, con legge dello Stato, è stato istituito il Parco Nazionale d'Abruzzo, allora si chiamava solo d'Abruzzo. Bene, grazie Presidente. Grazie a voi.